Alex Belli non è solo uscito dallo studio del grande fratello Vip in modo brusco, ma è anche andato via dall'Italia all'improvviso. Dopo aver lasciato Delia a Duran ed essere stato cacciato da Alfonso Signorini durante la diretta di ieri sera, l'attore ha preso un aereo ed è andato all'estero. Nelle ultime stories di Instagram ha immortalato il panorama dal finestrino del suo aereo e scritto Bye Bye Italia. L'attore Parmense ha deciso di lasciare l'Italia e ha anche annunciato in un tweet che per lui il gioco è terminato e che è tempo di tornare alla Factory. L'ex protagonista di Cento Vetrine si è imbarcato su un aereo ed è partito per l'estero. Oggi ha pubblicato delle stories in cui si è immortalato durante il decollo dell'aereo su cui è salito. Ha lasciato il mistero sulla sua meta, ma ha taggato Alessandro Filippi, hair stylist e make-up artist con cui lavora, che al momento si trova in Egitto. In una delle stories su Instagram ha immortalato un paesaggio desertico scrivendo nel bel mezzo del nulla. Alex Belli è quindi fuggito dall'Italia, questo vuol dire che non lo vedremo più in puntata. Siete contenti?